Buongiorno a tutti, eccoci arrivati qui da YARForex, pillola di trading quest'oggi. Non c'è la trading room su azioni, ma lo stesso voglio con voi parlare di alcune cose riguardanti le azioni, lavorandole con i certificati Turbo24. Come sapete ho già fatto altri video riguardo questa modalità operativa con questi strumenti, che ritengo molto interessanti, ne abbiamo parlato, ne parliamo ogni tanto durante le trading room. Questa oggi però volevo farvi vedere, proprio andare un po' nel vivo e farvi capire come in effetti si può andare a fare del trading in questo modo, con questi strumenti, attraverso la piattaforma .dg, tra l'altro, che è assolutamente molto 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 interessante. Vi faccio vedere delle cose che io ho a mercato in questo momento, così vi faccio capire che tipo di trading si può fare, come è elastico il modo di fare trading e anche con i costi all'interno, diciamo, dell'operazione, quindi diventa molto molto interessante, proprio per una questione di gestione del rischio, direi molto attiva. Ecco, molto molto interessante. Io sapete che il rischio lo guardo molto nella mia gestione operativa, cerco sempre di essere abbastanza calibrato. Allora, io andrei a prendere l'operazione che ho su Intesa San Paolo, che è entrata da poco, così la vediamo proprio fresca fresca, e vediamo un attimo che cosa faccio quando faccio delle operazioni, con questi strumenti, che cosa guardo e come possono essere utilizzate, perché ovviamente non c'è un unico modo. Io vi faccio vedere un po' come lo faccio io, ma sicuramente potrebbe essere interessante poi andare a approfondire ognuno con la sua metodologia, il suo carattere. Allora, mettiamo, questo qui è il titolo Intesa, io su Intesa tra l'altro ci ho già fatto uno short, ho preso questo movimento qui, che si era venuto a creare una settimana fa, un paio di settimane fa, e questa mattina ho deciso di rivendere. Voi ovviamente vedete adesso questo video che è venerdì, ma io lo sto registrando giovedì, e quindi poi vedremo un po' come si muove, però più che per l'operazione è per farvi capire come viene fatta, non è per condividervi l'operazione, che in questo caso avrebbe poco senso. Ma, allora, ritengo che il titolo bancario Intesa San Paolo possa continuare la discesa nel prossimo futuro, quindi un po' come posso fare con i CFD o con delle azioni cash, cerco un punto di entrata. Penso che si possa scendere primariamente verso 1,60, in realtà ce l'abbiamo già andati qui, ma che si possa addirittura anche arrivare verso l'area 1,40, 1,41, questa zona qui, che potrebbe diventare la mia zona, diciamo, di target. Allora, in questo caso, se andiamo a prendere il titolo, questo qui è un grafico settimanale, quindi ovviamente come sempre io guardo prima di tutto l'ambiente settimanale, c'era stata fatta questa FTV, tra l'altro, ripeto, io ho anche già trattato short, ho preso qualcosina da un movimento leggermente short, e poi ieri siamo venuti a creare un ulteriore setup, che è una delle mie strategie principali, che è un FTV Power in questo caso. Ecco, cosa vedete qui? Vedete che c'è scritto qui 122 turbo, e c'è un numero 1 che si muove, questo è ovviamente il numero 1 del profitto perdita, che poi genererà l'operazione, no? 122 turbo, cioè quanto io ho acquistato, e quanto ho acquistato, sì, perché dico questo? Perché con i turbo certificati si può solo acquistare, quindi io non posso vendere il certificato, io però ho comprato in questo caso dei certificati turbo short del titolo intesa, quindi io short o long compro i certificati short, o compro certificati long del titolo intesa. Quali posso comprare? Qui ci sono le liste, quindi io posso comprarne 2, 4, 6, 7 certificati per il long, e 2, 4, 6, 8 certificati per lo short. Vedete che quando io vado a prendere il mio grafico, vedete che ho la possibilità di andare a inserire, no? Diciamo il mio knockout, come si chiama, il mio punto di massimo rischio, dove me lo mostra la piattaforma, in questo spazio che mi fa vedere i livelli di KO, knockout, la leva, e poi il livello di sell by, quindi di bidesk. Quindi io ho la possibilità di comprare dei certificati short del titolo intesa, andando ad avere anche svariate tipologie di massimo punto, dove, se dovesse salire oltre quel punto, io uscirei, il mio trade, il mio investimento andrebbe a zero, ok? Allora, cosa succede? Che io vedo una cosa del genere, vedo ovviamente il mio short su questo livello, e solitamente, quindi vedo, io poi sono andato, ho inserito ancora stamattina presto, l'ordine sell stop alla rottura di questo minimo, quindi ho inserito un ordine pendente, ma avevo deciso prima dove volevo andare ad avere il mio massimo investimento, il mio massimo rischio, dove andare a mettere e posizionare il knockout. Quindi, avendo in questo caso, qui, un massimo qui, un massimo qui, e un massimo qui, che va a toccare e fa questo FTV, per me, il punto dove il mercato, di breve, potrebbe cambiare la sua struttura, e potrebbe quindi iniziare anche un movimento long più ampio, è proprio in area 2, più o meno, o leggermente sotto, in questo caso, andava, poteva andare bene qui, quindi l'area 1,98 e 62, questa zona qua. Infatti, guardate, se io vado a posizionarmi qua, vedete, leva 7, 1,98 e 62, tac, lui me lo segna, eccolo qua, e mi crea, lo spazio per tutto il, l'inserimento del mio ordine. E la cosa che voglio farvi capire, è che io solitamente, non vado a posizionarmi con un knockout strettissimo, potevo mettermi anche qua, di base, no? Se mi fossi messo qui, avrei, guardate, comunque un knockout, che è più o meno al di sopra della mia FTV, e che comunque nel breve, va lì a violare il mio, il mio, come dire, il mio, la mia visione, va un po' a fallirla, però non vado mai a mettermi lì, 1, perché comunque il knockout, se viene colpito, ha un piccolo costo, si tratta di poca roba, però ha un piccolo costo, e 2, perché per me il knockout non deve essere colpito, per me deve essere proprio il punto, di massima, cioè, di massima perdita, ma che non va a essere, mai, veramente, il mio punto di massima perdita, quindi se io vado a prendere, dove l'ho inserito, vado a prendere i vari punti, dico, qua è ancora, qua no, qua è ancora no, qui forse, troppo attaccato ai massimi, settimanali, e qui invece potrebbe essere buono, e quindi mi vado a mettere lì, pam, eccolo qua, e lui me lo inserisce, quando lo inserisce, ovviamente mi chiede il tipo di ordine, poi io decido, per esempio, se io ho messo uno stop ordine al limite, cioè un ordine, quello che qui CFD, per esempio, viene definito il sell stop classico, si chiama stop limite, perché? Perché andremo a inserire un ordine, sell stop, per esempio, non so, uno settantune e cinquanta, e limite uno settantune e quarantanove, per lo slippage, no? Perché i turbo hanno anche, eh, un book di negoziazione, e quindi, eh, nel caso, ci potrebbe essere uno slippage a sfavore, mh, o a favore, dipende anche da come ci andiamo a inserire, insomma. E, quindi vado a, per esempio, dire, benissimo, voglio comprare questi certificati turbo, gli chiedo, gli dico, se voglio dare limite a mercato, o stop ordine a limite, mentre questo è solo un ordine stop loss classico, quindi non si può inserire in questo momento, su una nuova posizione, e, eh, andrò poi, aprendo il turbo calculator, a mettere il mio livello del sottostante, quindi, in questo caso, andrò a prendere, praticamente, il punto che voglio entrare, per esempio, eh, voglio entrare, a, uno settantuno, uno punto, settantune e cinquanta, metto copia allo stop, eh, mentre, uno settantune e quarantanove, copia al limite, io so che, al massimo in quel range, lui mi deve eseguire. Quindi, in questo caso, poi prende il livello di prezzo del, eh, del, del certificato, e gli vado a dare anche prima ordine, ovviamente, cercando di capire che la quantità, per esempio, in questo caso, ecco, io sono entrato con centoventidue contratti, quindi con un controllo di trecentocinquanta euro, quindi un investimento di trecentocinquanta euro, e faccio l'operazione. Mi dà anche i costi di apertura, che sono quattro euro e zero tre, in questo caso, quindi, mh, anche rispetto a, mh, altre tipologie di, eh, come dire, di strumenti, sono anche abbastanza competitivi, anzi, dai molto competitivi, soprattutto su alcuni titoli, eh, davvero. Eh, anche perché poi, nel corso dell'operazione, mh, i costi che possono derivare dall'overnight, sono tutti inseriti con l'abbassamento della quota del knockout, leggermente. Quindi, quello che poi io vedo, ogni giorno, il guadagno o perdita che vedo, è un guadagno o perdita reale, al netto anche di un possibile costo. Quindi è veramente super top, quindi se io vedo che adesso sto facendo più dieci euro o meno dieci euro, quelli sono, sono già al netto dei possibili costi overnight. Eh, quindi diciamo che, questo è assolutamente molto, molto interessante, questi costi di apertura indicativi, sopra i 300 euro, tra l'altro, sono, eh, esclusivamente il prezzo del, dello spread, in realtà, perché, eh, commissioni sopra i 300 euro, tra l'altro, non ci sono neppure, quindi è proprio il costo dello spread. Poi, in questo caso, c'è la top in tax, 25 centesimi, stavolta io ho pagato, quindi stiamo parlando di queste tipologie di costo. Quindi assolutamente interessante la, eh, la questione. Ehm, una cosa che voglio dirvi, eccola qua, che magari non, non avete ben chiaro. Quando io vado a comprare, vedete che, comprare, per esempio in questo caso, i certificati short, vedete che io ho un prezzo del certificato. Cioè, in questo caso, l'acquisto di, eh, x certificati short, di, eh, intesa, mi costa 2 euro 79,3 centesimi, no? 79 centesimi, 3, 190,3 centesimi, diciamo. E, questi 2 euro 79 centesimi, è il costo del certificato. Cosa significa? Significa che se io compro un certificato, uno, e lo voglio comprare a mercato, adesso a questo livello, è il controvalore, 2 euro 79. Quindi, quello che io pago, è quello che io vedo. Cioè, se, è un po' come se io comprassi i titoli, no? Azionari cash. Quando tu compri un titolo a, un euro, e ne compri uno, ti costa un euro. E tu sei al mercato con un euro. Quindi, in questo caso specifico, nel momento in cui compro un certificato, e voglio mettere anche un paracadute qua, lo posso fare, il mio rischio sarà 2 euro 79, con un massimo di 2,99, perché, appunto, la possibilità anche di che mi venga colpito il knockout, eccetera. Questo è il mio costo, ok? Non vado a spendere di più. Quindi è già questo, poi va a essere inserito, anche nella sorta di overnight, che puoi pagare, quindi, il knockout si abbassa leggermente, si abbassa leggermente ogni notte. questi, quindi, sono strumenti che vanno benissimo, per un trading di breve, e medio termine. Per un trading di lungo termine, quindi sto parlando mesi, o anni, no, ovviamente, per quello si fa magari, altro. Per quello, probabilmente, non vanno neanche bene i CFD, forse meglio i CFD. Comunque, se voglio comprare delle azioni, e voglio tenerle, detenerle anni, ovviamente, è meglio fare magari altro. In questo caso, invece, operazioni di breve termine. Cosa significa breve termine? Qualche giorno. Operazioni di medio termine, qualche settimana, massimo qualche mese. Solitamente, io faccio un trading di breve e medio, che va da, due, tre, quattro giorni, quando è poco, a, due, tre, quattro settimane, quando è tanto. Questi sono assolutamente strumenti molto buoni, perché, nel loro insieme, permettono, intanto, di avere un rischio contenuto e sicuro. Perché? Perché io, quando metto questo, non è come gli stop loss, che noi andiamo a inserire sui CFD, per esempio, o su altri mercati, che possono saltare. Cosa significa? Per esempio, prendiamo il titolo NIO, che mi piace, per esempio, per un possibile short oggi, no? E io, volessi andare a shortare, qui sotto, quindi voglio andare a shortare, abbiamo ovviamente, un settimana di un certo tipo. Da, che ci indica short, per esempio. Io voglio shortare, se lui rompe i minimi, a 15 e 60, quindi andrò a prendere qua. Gli vado a vedere, dove inserire la mia massima perdita. Quindi, se io vado a prendere qua, guardate, pa, 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 ecco, qua in questo caso, addirittura, metterei la leva più bassa, leva 2, e il massimo certificato, come espansione. Non voglio stare troppo sotto, perché anche se mi fa una sparata, non voglio uscire così, solo perché ha sparato un giorno. Cercherei di capire, anche qua, guardate, è stata una sparata, poi lui ha recuperato. Con il mio trading, è un po' così, cioè, devo sempre cercare un po' di gestire la situazione. Voglio andare a vendere qui, e voglio vendere, facciamo esempio, stop limit, perfetto, apri turbo calculator, gli andiamo a dire, 15 e, a 15 e 60, per esempio, voglio andare, copia lo stop, e poi a 15 e 59, 90, copia il limite. Voglio anche qua investire, 350 euro del mio capitale, quindi vado a prendere, vado a fare un po' di prove, saremo sui 40, 34, 35, 36, eccolo qua, 37 certificati, perché 37 per 9,167, fa 351, quindi io compro 37 certificati, al cost, short, al costo di 9,167, mi costano così, ovviamente adesso lui mi dice, guarda che, fai attenzione, perché al momento lo strumento è chiuso, infatti, ho detto oggi ci guardo, nel pomeriggio quando aprirà, ci darò un occhio, e, in quel caso, potrei andare a, inserire questo ordine, e quindi cosa succede a questo ordine, nel momento in cui lui scende, poi mi darà dei profitti, nel momento in cui magari sale, vedo un po' che cosa fare, poi magari riscende, oppure, se inizio a inserire in un certo modo, che mi sembra, che voglia ripartire, magari chiudo la posizione, prima in perdita, per esempio, con un piccolo costo, se qui ho messo 350 euro, magari io chiuderò a meno 100, per esempio, e tengo di piccoli costi, tenendo conto che, nel costo totale, o nel profitto totale, io ho già, anche, il possibile overnight, quindi quel costo, per la leva, per un, variate cose che possono entrare, all'interno del costo overnight, che sono già all'interno, di quello che io vedo, il mio profitto, o il mio ricavo, o il mio costo, è quello lì, ok? Quindi, insomma, vi assicuro, che è assolutamente, molto, molto interessante. Inoltre, il fatto che, comunque, ci sia questo, appunto, come dicevo prima, non è uno stop loss, ma è proprio il massimo investimento, quindi vuol dire, se io metto, facciamo esempio, diciamo sempre quei 300, da qui a qui, quei 300 sono questi, nel caso in cui lui sale, qui sarò, non so, meno 100, quindi, vuol dire che, i miei, i miei 300 diventano 200, poi qua diventano 100, e qui diventano zero, quindi il mio investimento da 300, è andato a zero, si dice, no? Non avrò ulteriori costi, io quelli ho investito, quelli rimangono. Questo è, anche poi, sulle azioni, azioni americane soprattutto, che a volte hanno delle volatilità un po' importanti, è molto interessante, perché slippage strani, quindi con aperture in gap, facciamo per esempio, diciamo, il titolo neo, il titolo americano, esce una, un qualcosa, a mercato chiuso, spesso, poi sappiamo, trimestrali, americane, escono sempre a mercati chiusi, questo mi apre qua, adesso va bene, adesso stiamo parlando, però, e io vengo eseguito qui, quindi se io avevo un costo massimo di 350, in realtà, vengo eseguito qui, con un mercato normale, con un stop loss classico, invece in questo caso, la posizione va a zero, qui, no? Quindi ho, il mio investimento massimo, è quello che io vedo, non posso rischiare, io per esempio, vedete qui ho, 1070 euro di posizioni, ho alcune posizioni, il totale del mio investimento massimo, su svariate azioni, è 1070 euro, che andrò ovviamente a gestire, questi 1070 possono diventare 2000, possono andare a 500, no? E andrò a gestire, insomma, la cosa. Questo è un po' il, il modus operandi, ed è assolutamente importante, interessante, soprattutto su mercati come le azioni, per esempio, che, tra l'altro ce ne sono un bel po', e vengono sempre aggiornate di nuove, ce n'è dagli Stati Uniti, all'Europa, all'Italia, ce n'è un po', un bel po', e quindi può diventare, insomma, interessante come cosa. Altre cose che volevo dirvi, riguardo questo tipo di strumento, che è sicuramente interessante, non mi sembra di ricordare che ne ho, non mi pare. La cosa però che voglio dirvi è che, sotto questo video, nella descrizione, c'è un link che vi porta direttamente a provarli, o all'apertura del conto, o a provare questi Turbo direttamente. Quindi, potete direttamente utilizzare questo link, e per qualsiasi cosa, potete scrivere la nostra email, per avere informazioni, anche riguardo, insomma, a esempi operativi, oppure scrivete su questo video, se avete bisogno di esempi ulteriori, di video ulteriori su questo strumento, che ripeto, è un ottimo strumento, anche per diversificare, permette di fare trading, comunque, con un rischio, diciamo, garantito, e soprattutto, per esempio, con altri strumenti a leva, spesso si utilizza il margine, per esempio, penso ai CFD, dove io metto a lato un margine, per operare, quindi, pensiamo a, anche al Forex, per esempio, euro-dollaro, se io voglio comprare un lotto standard di euro-dollaro, 100.000 euro-dollari, avrò un margine di circa 3.330 euro, per fare l'operazione, ecco, nel caso, e poi ho il mio, la mia posizione che si muove, e fa quello che deve fare, nel caso dei certificati, no, quello che io rischio, cioè il mio investimento, è anche il mio margine, cioè non c'è un margine, io qui, per esempio, su NIO, o su Intesa, ho inserito 350 euro di massimo investimento di rischio di stop, quello è, non ho un ulteriore margine a fronte di fare l'operazione, quindi questo è quello che ho investito, e poi, da quello, il profitto potrebbe essere, non so, 500, 600 euro o meno, vi faccio vedere, per esempio, su Intesa, eccola qua, se io vado sempre qua, e vado a fare così, e invece di comprare, li vado a vendere, i certificati, e vado a venderli, limite, a, quindi, li voglio vendere a, se Intesa va a, abbiamo detto a 1,41, ok? A 1,41, quindi, livello del sottostante, 1,41, copia sull'ordine, io gli dico che, la quantità è, 122, oh, eccolo qua, vedrete che, c'è una cosa qui, che viene scritta, ovvero, che il controvalore finale, della mia posizione, sarà di, 723 euro, che, al netto del mio investimento, il profitto reale, è di, 372 euro, perché lui, cosa fa? Fa il rischio che ho preso io, 350, più di, 372, che è il profitto, quindi il mio controvalore finale, quando più dell'operazione, sarà di 723, proprio quando, come quando operate, o si opera su, per esempio, le azioni cash, dove tu hai, ovviamente, quello che hai investito, e quello che è, l'esito finale, che tiene conto, anche di quello che avevi investito, va bene? Bene, io direi che, abbiamo veramente, detto tutto, sviscerato un sacco di argomenti, se comunque, volete altri video di questo tipo, volete vedere, altre cose, come funzionano, questi certificati, molto interessanti, scrivete pure nei commenti, scriveteci delle mail, e noi siamo qua, va bene? Ok, grazie a tutti, io vi saluto, e vi auguro un buon Trading Simple, ci vediamo alla prossima.